Quest'anno Enerjoy il ballo che unisce si farà sempre ma si farà tutti singolarmente ognuno a casa propria. Avete una canzone che prediligete, sopra realizzateci una coreografia vostra, deve venire dalla vostra vena artistica, dal vostro estro, vi registrate col cellulare e ce la inviate a infochiocciolapassessuoni.it I video più belli che arriveranno durante l'estate da ottobre verranno inseriti in puntata, quindi vi potrete vedere in tv. Un indirizzo Paypal dove chiunque, se ha voglia di donare, può donare da 50 centesimi, 2 euro, tutto quello che ritiene opportuno. E a chiusura dell'evento, quindi a fine settembre, realizzeremo un assegno che poi in una cerimonia ufficiale consegneremo appunto a Deborah Donati, la fondatrice dell'associazione che abbiamo scelto quest'anno insieme a te.